gentili telespettatori buona giornata si è parlato in questi giorni di un ritorno di battista in che in che senso un ritorno di di battista un ritorno magari come capo politico perché si pensava che fosse imminente la caduta di luigi di maio e c'è chi diceva l'unico sostituto è assolutamente è di battista non ce ne sono altri di peso che possano prendere il suo posto nonostante all'interno del movimento 5 stelle ci siano delle lotte terribili per riuscire a prendere il comando del movimento 5 stelle gruppi che si sono formati dove vogliono poi spartirsi il potere di questi gruppi uno vorrebbe diventare il capo politico gli altri poi ministri sapete come si fa nelle peggiori aziende dove il gruppo di amici poi arrivato al potere si spartisce il il potere quello più in alto e così si pensava comunque a di battista che potesse prendere il posto di luigi di maio poi c'è anche da dire che luigi di maio di battista secondo alcune voci si stanno sentendo tutti i giorni avrebbero programmato che dopo la caduta del governo programmata secondo loro due il 26 27 di gennaio con la caduta dell'emilia romagna ad anno del del pd per mano del del centrodestra loro poi avrebbero fatto una campagna elettorale tutti e due assieme dove di maio sarebbe rimasto capo politico e di battista sarebbe stato quello che faceva i comizi front front man quello che faceva tutti i comizi tutti i giorni l'alter ego di salvini portando comunque il movimento 5 stelle verso destra quindi verso salvini nell'area di centrodestra perché di maio avrebbe confidato che l'unica è il sovranismo il populismo di centrodestra è l'unica via che si può intraprendere in italia l'unica cosa che che funziona che attecchisce però di battista ha capito che ieri dopo dopo che grillo ha riconfermato ha acclamato luigi di maio come un grande lavoratore che lavora 25 ore al giorno e che è una persona capace che senza di lui il movimento 5 stelle sarebbe ancora più fragile e il governo sarebbe a rischio e questo grillo non vuole che sia a rischio e quindi di battista per ora si defila dice questioni di famiglia a roma poi ripartirò per l'iran riprenderà il suo viaggio di lavoro ma resta una carta nel futuro perché di battista è l'uomo che dovrebbe fare dovrebbe essere dovrebbe dovrebbe ma non lo è mai i margini per un suo ritorno sulla scena madre in questa fase non ci sono più sembrerebbero tramontati all'improvviso con la visita di grillo ieri a roma per vedere di maio proprio chiesta da di maio questa visita che gli ha chiesto ho bisogno di vederti ho bisogno di parlare con te di spiegarti come vanno le cose e di battista dice rimarrò a roma ancora qualche giorno il tempo di risolvere alcune questioni di famiglia che in questo momento vengono prima di altre cose poi riparterò per l'iran per scrivere l'ennesimo capitolo della saga sul lungo addio di alessandro di battista dai vertici del movimento 5 stelle stavolta non c'è stato bisogno nemmeno di aspettare la blindatura della leadership di luigi di maio arrivata ieri dalla viva voce di beppe grillo stavolta no in un momento di grande tristezza come le settimane successive alla morte della mamma il nome tutelare della vecchia ala barricade era del movimento si è chiamato fuori da solo parlando con alcuni amici e compagni dell'ennesima ridda di voci che lo davano nuovamente in rampa di lancio i margini per un suo ritorno sulla scena madre che sembravano già ristrettissimi nonostante il voto della piattaforma rossò fosse stato letto come una sconfessione della leadership di di maio in questa fase non ci sono più sarebbero tramontati per questo l'ex parlamentare tempo qualche giorno tornerà in iran a completare il viaggio di lavoro interrotto a causa del lutto familiare che l'ha riportato a roma intanto di battista continua comunque a sentire per telefono casaleggio telefonicamente a coltivare quell'amicizia che ormai a prescindere dai destini suoi del movimento lui continua a coltivare ma il movimento con di maio sta per andare in un'altra direzione verso la sinistra come indicato da grillo che gli ha chiesto io ti confermo tu sei il leader però riapri al pd fate un nuovo contratto come dire a diventa condiscendente con le richieste del pd cioè praticamente diventa una costola del pd questo forse è un altro passo verso una direzione che a mio avviso per il movimento 5 stelle è assolutamente sbagliata perché ormai il movimento 5 stelle si è snaturato snaturato è andato a sinistra sta diventando un vassallo del pd nonostante batta i pugni sul tavolo ma grillo sta fermando questi pugni che si battono sul tavolo attenzione grillo nel 2009 poco prima di fondare il movimento 5 stelle stava per tentare la scalata al pd lui è un uomo di centro sinistra è per questo che ritorna a vedere positivamente il pd dopo che lo ha attaccato per anni dicendo che era la casta e bisognava eliminarlo e in questo nuovo movimento 5 stelle che dove di battista era l'ultimo testimone di quell'ortodossia né di destra né di sinistra trasversale che rifugiva come la peste ogni alleanza e non può più far parte di questo movimento che per forza deve allearsi con questo con quello e soprattutto col pd perché grillo vuol far capire che l'alleanza col pd deve diventare una cosa duratura costante per poter in un futuro rimanere in un governo perché grillo ha capito che il pd rimarrà al 20 per cento mentre il movimento scenderà chissà a quale percentuale quindi dovrà accollarsi attaccarsi al pd e non vuole che si attacchi più dall'altra parte verso la destra che ha reputato un po pericolosetta e la sinistra la dichiarata la definita proprio ieri a roma con di maio che ancora non ha proprio una sua identità e d'altronde sia di maio che grillo assieme hanno scritto una nota congiunta che hanno detto il mondo è cambiato noi siamo cambiati non siamo più quelli di prima quindi i personaggi come di battista quelli del no alleanze no qui no la troppo duri troppo intolleranti intransigenti noi siamo da soli combatteremo contro tutti non va più bene non va più bene perché grillo ha capito che tu per combattere il sistema devi fare parte del sistema devi essere il sistema per un sistema che vuole cambiare se stesso perché se tu sei un esterno il sistema ti espelle in un modo o nell'altro ti fa su ti incarte ti espelle e intanto vincenzo spadafora alla festa del foglio dice di battista è stato e sarà un grande leader per il movimento 5 stelle però da quello che dice il ministro per lo sport di battista è stato il passato prossimo e sarà il futuro in questo momento no in questo momento non c'è trippa per gatti quindi grillo vuole agganciare il movimento 5 stelle alla locomotiva ormai del bipolarismo due grandi blocchi il centro destra il centro sinistra e secondo grillo il movimento 5 stelle deve stare nel centro sinistra sa che non potrà essere più il partito trainante perché ormai i sondaggi e quello che hanno fatto il cambiamento ha portato a perdere tutti quelli che lo sostenevano quelli che sostenevano il cambiamento che non c'è stato che forse è iniziato forse in corso forse è stato abbozzato quindi elettori persi quasi tutti un movimento che diventa partito che diventa casta che diventa simile al pd e quindi in cerca di nuovi elettori ormai in una coalizione di centro sinistra dove vedrà in un futuro il pd come sempre il punto di riferimento di quest'area politica dove grillo vuole collocare il suo movimento 5 stelle la sua creatura e intanto di battista riprenderà di nuovo l'aereo che lo riporterà a riprendere un viaggio interrotto destinazione iran intanto orlando dice pericoloso un governo da separati in casa il vice segretario del partito democratico orlando dice sia un patto per il futuro e aggiunge il pd alternativa alla lega il movimento 5 stelle scelga il campo e ancora in emilia vinceremo cambiare segretario se perdiamo no il tema non si pone ma serve il congresso che non si fa ormai da molto tempo e intanto orlando conferma l'apertura verso la lega riguardo alla legge elettorale da cambiare in un vero maggioritario puro quindi pd e lega sono d'accordo a fare questo per tagliare fuori i piccoli partiti e soprattutto cercare di far fuori matteo renzi lo scissionista quello che vuole fare al pd quello che ha fatto magron nei socialisti e zingaretti vuole fare a renzi quello che vuol fare cioè farlo fuori col maggioritario mettendo uno soglie di sbarramento più alto tagliando fuori il matteo l'altro matteo il renzi grazie per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi a questo canale gratuito nella community trovate tanti sondaggi a cui potete partecipare commentare siamo anche su facebook tele italia notizie dove trovate gli stessi video che ci sono su youtube li potete assolutamente condividere con chiunque ovunque e dove volete grazie per avermi ascoltato vi ringrazio e vi auguro buona giornata arrivederci